La situazione era e resta ingarbugliata e soprattutto di difficile interpretazione. Fare previsioni su quando lo stadio Cosimo Puttigli potrà tornare ad essere agibile è molto complicato. C'è comunque la volontà da parte della nuova amministrazione e dell'attuale società del Barletta di provare a stringere i tempi o comunque a non dilatarli ulteriormente di tempo. D'altronde se ne è perso fin troppo per una struttura che è chiusa ormai da tre anni. Ieri pomeriggio intanto il neosindaco Mino Canito, dirigente del comune e gli attuali soci del club biancorosso hanno fatto il punto della situazione recandosi proprio presso l'impianto sportivo di via Vittorio Veneto. Le cose si stanno muovendo anche grazie ai tre senatori della Repubblica di Barletta che si stanno impegnando presso il Cipe e presso il Cone. La nostra struttura tecnica si sta adoperando al massimo per raggiungere il risultato che è quello di rendere fruibile il più presto possibile lo stadio comunale che è un desiderio, la cui fruibilità è un desiderio voluto a tutti quanti i tifosi del Barletta Calcio. Le rassicurazioni ne abbiamo avute poche perché comunque sia ci vogliono dei tempi tecnici soprattutto per quanto riguarda la demolizione delle vecchie strutture. L'appalto è stato vinto quindi i tempi stanno camminando. Il problema adesso è che comunque sia durante quest'opera di demolizione delle vecchie gradinate non ci potrà essere nessun tipo di attività quindi anche l'atletica verrà sospesa. Siccome questi tempi sono abbastanza lunghi perché parliamo comunque sia più o meno tra aggiudicazione e partenza dei lavori fino alla conclusione si parla di circa 8-9 mesi. Penso che anche per questa stagione che sta per incominciare dobbiamo accontentarci del Manzi. Il Barletta Calcio intanto spinge per una riapertura parziale del Puttilli soluzione che però non è gradita alla tifosera organizzata e spera di poter utilizzare l'impianto sportivo già per la prossima stagione agonistica. Verificheremo se le leggi ci consentono questo percorso perché qualora le leggi lo consentissero noi faremo di tutto per attivare lo stadio. E' ovvio che dovremo chiedere i pareri alle autorità preposte in ordine alla sicurezza del campo e alla sicurezza sia dei giocatori che anche degli spettatori. Se vai a vedere tutte le leggi e le norme chiaramente è una cosa molto difficile però noi lavoreremo in questa direzione perché è quello che vogliamo. Quindi sicuramente noi con convinzione ma anche il sindaco e la nuova amministrazione comunale che ripeto e ribadisco si stanno dimostrando molto disponibili alla causa faremo il possibile ma anche l'impossibile per far sì che ciò avvenga. Fondamentale però sarà il ruolo del CONI a cui sono stati affidati i lavori ecco perché il sindaco e i dirigenti biancorossi chiederanno un incontro con il presidente Giovanni Malagò. Chiederemo un incontro a Malagò perché dovrebbe aver ricevuto i soldi dal Cipe e quindi avendo avuto l'incarico di appaltare i lavori vorremmo sapere la tempistica conosce la tempistica perché una città come Barletta non può essere privata di un gioiello come questo e quindi chiederemo a Malagò di fare il possibile per renderlo subito, per restituirlo alla fruizione pubblica e sportiva. Tre anni di chiusura sono già troppi, il quarto probabilmente è da mettere in conto andare oltre a prescendere dalle responsabilità non sarebbe più accettabile.